E proprio a Nicola Bianca lascerò la parola perché è qui la Presidente dell'Ozone. Si è preparato il discorso? Sono avuto col cuore. Sono avuto col cuore. Ecco perché è il caso. Prego. Innanzitutto confermo quanto detto il nostro Sindaco che l'Ozone è sempre stato, lo è e sicuramente sarà vicino alla società, non solo l'Ozone sportiva ma le altre società del Comune. Io ho lavorato in altre società e non sempre ne era il caso. Vorrei fare due parole e rivolgerle soprattutto a Matteo. Un ringraziamento è un augurio. Il ringraziamento va in qualità di Presidente, io qui rappresento evidentemente l'Ozone sportiva, l'Ozone sportiva dove ti ha accolto, dove tu hai iniziato la tua carriera agonistica di calciatore e quindi in qualità di Presidente non posso far altro che essere estremamente fiero di dove un suo ex allievo è arrivato. Quindi questo è un grande ringraziamento che faccio a nome mio personale ma soprattutto a nome di tutta l'Ozone sportiva. Quindi grazie Matteo. L'augurio è rivolto verso il futuro, non per essere disfattista, non per toglierti questi momenti che tu come i tuoi compagni avete meritato sul campo, ma quello di rimanere così come ti vedo adesso, simpatico, sereno, tranquillo. Questa serenità e tranquillità te la auguro in un futuro agonistico proprio perché ci sono tantissimi esempi di attività sportive, di società e di giocatori e rispettivamente di sportivi stessi dove purtroppo il mondo agonistico scivola in quello che è tutto l'aspetto teatrale, cinematografico, di moda e tutto quello che ruota attorno a questo calcio o allo sport spesso conscivola volentieri nel business e quindi business vuol dire tante belle cose, tante belle opportunità ma vuol dire anche tanti pericoli. Quindi a te e chi ti sarà vicino auguro, ma sono sicuro che tu lo stai esprimendo già adesso come sei impacato e come ascolti alla tua giovane età, ti auguro questo savoir fair, questo saper ponderare bene dove vuoi andare, con chi vuoi andare e come vuoi fare. Ciò nonostante, grazie di cuore anche da parte nostra come l'osone sportiva, come cittadino l'osonese, di cinese, di spizio e amante del calcio e tanti auguri per il futuro. Bravo Matteo. Grazie a te, Matteo. Adesso tu sei un po' sul tempo del mondo, campione mondiale dal 17, che percezione hai in questo momento dell'osone, comunque sei cresciuto lì. Che ricordi hai? Ti sembra qualcosa di estremamente distante oppure hai fatto questo bel salto in alto? Sicuramente non dimentico i primi anni che ho passato all'osone, che sono stati veramente magnifici, infatti anche il passaggio al caldo non è stato veramente ritardato per questo motivo, per questa passione che io ho venuto all'osone, che l'ho legato tantissimo, però adesso la vita va avanti e continuare l'albi come sempre fatto e fuori a scuola, finendo l'osone. E tra l'altro tra i primi allenatori che ho avuto l'osone so che c'è anche la persona presente qui in sala, che è Vini Kurz. Vi vorrei chiamarla perché, insomma, il ragazzo è cresciuto, è la prima per lui, 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 è la prima per lui. Il merito anche tuo, te lo saresti mai immaginato. Ecco, lui era una cosa da non pensare. Ecco, abbiamo fatto tre anni a D.I.E., i due a D.I.E. e lì, Carlo, Matteo era bravo, però arrivare a un momento così da non credere. Ecco, se siamo giocati, abbiamo anche qui i tre compagni o quattro che senza di lui e senza di loro non potevano neanche giocare, io sono qua anche loro e grazie anche a loro che vuoi arrivare. Potreste esserci voi, anche perché finalmente bisogna essere capaci, bisogna sapere comunque anche far parte di un gruppo. Adesso, questo gruppo, che situazione hai vissuto e che cosa sono avete da dirgli? Siamo, prima di tutto, contentissimi di quello che ha fatto Matteo, lo conosciamo quando eravamo tutti gli altri così, è bellissimo. Io personalmente non ho fatto parte della squadra di Green Kurz, ho giocato comunque con Matteo qualche anno prima, nel mio D.F., nei C, ovviamente non c'è a che dire, è arrivato lontanissimo e grande teo è l'unica cosa che si può dire. Un episodio curioso, un applauso. Adesso non è come ricordare Matteo come un ex calciatore, come quello che ha vinto, però qualcosa di particolare, una caratteristica sua, il spogliatoio, il campo, si lamenta, rompe, non lo so. Ah boh, nello spogliatoio era simpatico. Un campo, lui ha un ottimo carattere, nel senso che, beh, non lo abbia facilmente, però è un carattere vincente. Ci vuole un po' di quella cattiveria. Adesso darei la parola anche a Davide Volandi, allenatore dell'Air 15-19-18, che conosce bene tanti ragazzi, conosce bene anche Matteo. Davide, tu adesso hai già parlato tanto di questa nazionale, adesso proprio abbiamo Matteo Fotosetti, di Matteo che cosa vorresti dire, parlando proprio delle situazioni in campo e fuori e della crescita di un giovane calciatore, perché comunque deve ancora affrontare una bella fase di maturazione. Beh, il fatto che debba fare un processo di maturazione, il primo a saperlo è lui, quindi non penso che debba essere sottoscritto pure ad altre persone a doverlo ricordare, perché comunque è un processo automatico e Matteo il primo di essere consapevole. Quello che volevo dire io questa sera, e grazie per avermi dato l'opportunità, è che Matteo è il frototipo del giocatore che rappresenta il proprio comune, si stacca dal proprio comune per andare altrove, ed è quel percorso che ha fatto lui, ma ha fatto anche Saulo De Carli, ha fatto altri giocatori, anche Giorgio Puls, che attualmente è nell'articino 18, è un prototipo di passaggio automatico per tantissimi giocatori, però c'è una particolarità, è questa losone, e la losone sportiva danno questa particolarità, e non sono parole di retorica, ma effettivamente quello che si sente si percepisce. Io Matteo l'ho già ringraziato quando l'ho rincontrato a regionale Nigeria abbracciandolo, per me è stato abbastanza, non c'erano bisogno di parole, è stato sufficiente abbracciarlo per capire quanto l'importante avesse fatto, però la particolarità è che Matteo mantiene sempre l'identità losonese, questo è comunque qualcosa che rimane, e rimane perché le persone che fanno calcio all'osone, ma le persone che fanno sport all'osone hanno veramente un'identità molto forte. Io ricordo di Matteo a Dongio la loro prima partita degli aeglieri, ero andato a vedere anche perché Matteo giocava quella partita, ho ancora le foto, tempo fa ho tirato a fare una foto dove c'era lui con Sao De Cagli e Giorgio Curse, ecco, il tempo passa, però l'identità rimane. Quindi il fatto che voi tutti siate qua questa sera è sintomo che la losone sportiva è una società viva, che ha forza e che soprattutto mette i giocatori che passano con quella maglia arancione nella migliore condizione per proseguire una carriera e se non è una carriera nemmeno per avere un'identità losonese. Quindi questo è quello che traspare da Matteo, secondo me questo è il messaggio più bello che si possa dare a questi ragazzi che saranno giocatori futuro, ma saranno probabilmente dirigenti, allenatori e quant'altro, ma soprattutto cittadini. Matteo sta dimostrando in questi giorni, e questo è il segnale più importante, che è un cittadino che è diventato uomo in fretta in queste ultime due settimane perché le sollecitazioni che ha avuto sono sollecitazioni non facili per un ragazzo di 17 anni, quindi da parte mia un grande applauso a Matteo. Matteo, tanta gioia, vi siete sfogati, avete fatto festa, lo pesa adesso, lo incomincia a pesare un po' la responsabilità, magari di dimostrare qualcosa, perché poi c'è una certa facilità in questi momenti, o non ci pensi proprio del tutto? No, non ci penso, sono tornato alla vita normale, senza nessun problema, un po' stanco dal mondiale, ma questo è ormai evidente, non ne ho riscontrato nessuno. E con la scuola? Adesso con la scuola a Prostani? Con la scuola sono riuscito benissimo anche a seguire la distanza, sono riuscito a fare qualcosina, ormai il tempo a disposizione non era un branché, e adesso in queste settimane cercano di recuperare il tempo perso. I genitori sono contenti, tu che rapporto hai con i tuoi genitori? È sempre fondamentale, lì ti sostengono. Certo, sicuramente, grazie sicuramente anche a loro per tutto il sostegno che mi ha dato, soprattutto anche già all'Europeo, ma soprattutto durante tutto il mondiale. andando vicino è veramente qualcosa di fondamentale, per me senza di loro probabilmente non sarei qua.